Junior è in una spiaggia con suo padre, Eddie. Lui corre dalla bagnina. Aiuto, bagnina! Mio padre ha bisogno di aiuto! Non sa nuotare. Sa nuotare? Ma il suo costume da bagno... Non ho capito. Il suo nuovo costume da bagno è troppo piccolo. Lui dice che non è vero, ma secondo me è orribile. Mi dispiace, lo posso aiutare solo se è un'emergenza. Questa è un'emergenza! La bagnina guarda Eddie. Ah, no! Hai ragione, quel costume da bagno... La bagnina chiama Eddie. Signore, scusi! Lei ha bisogno di aiuto! La bagnina dà un asciugamano grande a Eddie. Che succede? Signore, deve indossare questo asciugamano subito. È un'emergenza. Hai ragione, emergenza, padre. Orribile. Indossare... Grazie a tutti! Ero! Grazie a tutti